Oggi è triste il nostro eroe Oggi è triste il nostro eroe Ma posso io dormire con un Che mi martello le orecchie? Posso? Per ordine del comandante della polizia tedesca Maggiore Herbert Kappler Se volete Don Primo, resto io A proteggerti E poi cos'è questa storia che non ti incacchi mai? Cos'è con questo yoga che fai? Come sembra che lei dedichi troppe ore a televisione Devi dirmi tutto, le circostanze dettagliate del ritrovamento Ora, i minuti se si ricorda Non ci sono fascisti qui Si ordina a tutti gli abitanti di origine ebraica Nessuno escluso di uscire dalle proprie case La teoria degli alieni Grazie a tutti Grazie a tutti.